Cesare Spanoi, imprenditore e presidente dell'Aeroporto Sant'Anna S.P.A. dal 2012 al 2013, non ha nessuna responsabilità nell'ommesso versamento al fisco delle ritenute fiscali per 180.000 euro da parte delle società. Lo ha stabilito il Tribunale di Crotone, accogliendo la richiesta dell'Avvocato Francesco Verri e pronunciando una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, destinata probabilmente a fare giurisprudenza e cioè a ispirare la decisione di altri casi. Anche il pubblico ministero Antonio Malena aveva chiesto l'assoluzione. Il Tribunale ha osservato che la difesa ha documentato come l'imputato sia stato individuato e incaricato a dirigere l'amministrazione aziendale nell'ambito di un'accordata di imprenditori chiamati a soccorrere al grave stato di insolvenza in cui versava la società e ha apprezzato che Spano abbia partecipato attivamente all'accordata con versamento di denaro liquido e si sia speso personalmente per il sollecito delle altre compagini affinché si onorassero gli impegni di conferimento presi. Circostanze, tutte queste, confermate fra gli altri dall'ex presidente della provincia Azzurro ascoltato come testimone a discarico. Non solo, il Tribunale scrive anche che l'istruttore ha fatto emergere come alla gestione operativa delle scarse risorse disponibili vi fosse altra persona, il direttore generale, e come costei ad un certo punto impegnò denaro per il pagamento degli stipendi in spregio alla direttiva del CDA di sottoporre ogni movimento di denaro della società al preliminare vaglio del presidente. Il giudice attribuisce significato, infine, al vano tentativo di Spano di acquisire informazioni sull'andamento aziendale che unitamente alle altre criticità indusse per due volte l'imputato a presentare le dimissioni. Poi non accolte dal CDA, da qui la soluzione in virtù della non volontarietà nell'adempimento erariale.